Chi guarda la nostra televisione per televisione? Tutti per televisione, lui ha chiappato un bacio alla grande da Gigiune. Ovviamente ve lo facciamo un grandissimo applauso per tutta la pressezione comunale, un agli applausi a tutti insieme, via forza! Ora un applauso anche per il mio grandissimo Fanzi che ha voluto Gigiune qua stasera, carissimo Francesco, un applauso per Francesco, forte l'applauso! E per la Prologue e per tutto il Comitato Festa, via! Adesso un po' d'acqua e fra poco ci prepariamo tutti quanti a partire insieme a Gigiune, via la fine notte, qui ci rendiamo tutti quanti a Cavallo. Andiamo dove? Dove stiamo il giorno 13? Castel Giubile, partiamo poi il giorno 27? Come? Poi il giorno 14, se non mi sbaglio, siamo ancora in storia. a Bacchio, qui la so, qui ci stai a Bacchio, qui, 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 che stai informato? Sarà dell'Abbacchio, sulla montagna si sta bene? Vieni ancora tua nome a Bacchio, si sta bene, e si faccia bene, vai! eh 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 eh, nó bò 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 l'acqua! Vai vai, vai vai vai! I bambini ci stanno tutti a cavallo col Gigiune? Si! Partiamo, vai! Sei tutti a cavallo! Grazie a tutti.